Ciao Lara! Lara da Como? Ponte Lambro, in provincia di Como, sì. Ponte Lambro, in provincia di Como. Lei è proprio ama il quiz, addirittura hai partecipato alla Ruota della Fortuna. Sì, che mi ha cambiato la vita, effettivamente. Che ti ha cambiato addirittura la vita? Sì. Perché? Perché facevo la segretaria, guadagnavo poco più di un milione al mese, tanti anni fa questo, e dopo la partecipazione ho iniziato a lavorare un po' nello spettacolo, ballare, cantare, presentare un po' di tutto. Perché ti hanno licenziata dal posto di lavoro? Diciamo che dopo la quinta puntata, io ho fatto cinque puntate perché sono stata super campionessa, loro non volevano più darmi i permessi per giocare, perché ho deciso di andarmene e di tentare qualcosa di nuovo. Se c'è voglia di passare cinque puntate con noi, a noi non ci dispiace. Magari, magari. Però devi vincere. Eh, queste qua. Lara, attenzione Lara, la prima domanda è per te. Su quali particolari isole è consentito soltanto andare a passeggio? Petonali. Le isole Petonali, perfetto, bene Lara. Salvatore. Buonasera. Buonasera Salvatore.